Buongiorno Italia 1. Vi dichiariamo marito e moglie. Ah, meravigliosa! Se vuoi star lì sono 9,90 euro. Si scureggi. Riscaldamento è compreso. Esco a comprare la droga. Paraguro. Stavo aspettando. Ma guarda, come quella data? Fabrizio Vigio, Francesco Mandelli, i due soliti vioti. Questa sera alle 21.10 in Prima Visione Italia 1.